La forza medicatrice della natura Caro figlio adorato, papà attraverso gli studi sulla naturopatia ha scoperto e acquisito che con la nutrizione, digestione, circolazione, respirazione e assimilazione, è una continua riparazione dei tessuti che consumiamo vivendo. Attraverso essa, se le circostanze lo permettono, l'organismo ammalato si guarisce di per sé, che approfitta di tutte le circostanze per guarire. Il buon medico dovrebbe lasciare spesso che agisca la natura e non suggerire medicine che servono per far produrre all'ammalato la fiducia che è necessaria alla guarigione. Egli sa o dovrebbe sapere, ciò che noi prendiamo per malattia non è spesso che la conseguenza di uno sforzo che fa l'organismo per liberarsi della vera malattia, cioè di qualche cosa che è pericoloso per l'organismo. Io, caro Paolo, cerco di applicare su di me e anche sugli altri il famoso principio dell'Abyss Medicatrix Nature.